Stamattina è con noi Francesco Bassini! Uomini sempre più ansiosi, sull'orlo di una crisi, con nuove nevrosi, sogniamo dell'arrivo di donne stanotte in città, donne motori, chi ci salverà? Siamo maschi contro femmine, siamo libri senza pagini, Sansone contro Dalile e Ciglia un'avoragine. E poi facciamo l'amore, dimentichiamo che siamo fatti così! E dopo ho fatto l'amore, ci rivestiamo, dimentichiamo lunedì! Siamo maschi contro femmine, ed è un'eterna disputa, senza nessuna regola, come una guerra atomica. Uomini sempre noiosi, in cerca di una sfida, che non ha mai fine, per inseguirla, donna dei sogni che poi svanirà, la fata turchina che ci salverà. Siamo maschi senza femmine, siamo foglie senza alberi, Sansone senza Dalile, una tristezza cosmica. Ma se troviamo l'amore, dimentichiamo che siamo fatti così! E quando arriva la notte, ci spaventiamo dai stringimi, così! Siamo solo maschi e femmine, esseri così fragili, l'amore è senza regole e non ci sono limiti. Così facciamo l'amore, ce ne freghiamo, che il mondo fa così! E dopo ho fatto l'amore, ricominciamo, perché è bello così! E dopo ho fatto l'amore, ricominciamo, perché è giusto così! Si ammaschi contro femmine, seguiri senza pagina, Sansone contro Dalile, vicino a una voragine. Francesco Baccini in Piazza Italia! Complimenti Francesco, è una canzone bellissima, vieni! È veramente una canzone bella! Io ti faccio tanti complimenti, perché tu come i grandi artisti di razza... Vieni, andiamo da questa parte, devo smattare il pianoporto! Come i grandi artisti di razza, sai, quel graffio ogni tanto a chiappi, quelle canzoni miracolose! Ma sai, questa canzone... Eh? Ah, ce lo dico! Sì, tranquillo! Questa canzone è nata in un pomeriggio! Ricordiamo che è la colonna sonora del film Maschi contro Femmine, che è un film campione di incassi! Sì, infatti sta andando benissimo, è un film molto divertente! E questa è la canzone dei titoli di testa, quindi il film comincia con questa canzone! Che bello, che bello! E Fausto Brizzi, qualche mese fa, mi ha telefonato e mi dice Francesco, me la scrivi la canzone per il film? E dico, come si intitola? Maschi contro femmine! Mi sono messo al pianoforte in un pomeriggio, alla sera l'ho chiamato e ho detto senti, due minuti, glielo ho cantato al piano e al telefono! Cioè lui stava al telefono e ha ascoltato la canzone? Infatti non ci credeva, è stato velocissimo anche perché sono quelle cose che nascono con l'ispirazione! Quei miracoli che nascono poche volte! Un vero miracolo!